Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap San Siro, non eravamo tantissimi però un bel clima, una bella atmosfera di festa, ovviamente c'è chi, non faccio nomi, ha già sogni di gloria, ha già esaltato questa vittoria come se avessimo fatto chissà cosa, in realtà non so neanche in realtà come valutarla dato che l'avversario era poco e nulla, soprattutto con quel portiere, cioè il portiere c'era tutti i gol praticamente, perché il primo gol è sempre lui che non esce, perché lì lancio lungo lo stop di Jovic e non esce e gli permette a Jovic di fare gol, il secondo probabilmente non andava neanche in porta, il tiro di Jovic l'ha messa dentro lui, il terzo quello di Traore è uguale e poi l'unico quello di Leao che non è colpa del portiere quindi non so bene come valutare questa partita, però sono contento, abbiamo visto, abbiamo visto dei giovani interessanti, quindi niente festa, Pioli l'ha voluta rischiare, Pioli l'ha voluta rischiare con una formazione di tanti giovani, per fortuna Ranieri l'ha rischiata più di lui, nel senso che se ne è proprio fregato di questa Coppa Italia, cosa la giochiamo a fare non ho ancora capito, cioè sta competizione o la rendete interessante o se no toglietela, cioè o fate tutto, non so, a fine campionato fate un mese di Coppa Italia dove tutti si concentrano e gli diamo un valore, altrimenti così diventa veramente una roba che non interessa a molti, perché poi se la vogliamo vincere, però alla fine se tutti mettono le riserve, persino le squadre di bassa classifica, posso capire il Cagliari che si deve salvare, ma l'altro giorno pure il Bologna aveva messo le riserve, tutti mettono le riserve, per quale motivo? Perché si gioca troppo, non ha molto senso, quindi vabbè, comunque abbiamo vinto, abbiamo vinto, questo è l'importante, Pioli l'ha voluta rischiare, non ti permettono di fare la stessa cosa con l'Atalanto, con il Sassuolo, perché poi rischiamo veramente, perché poi veramente, perché ieri è andata bene, però non è che ti va sempre bene che becchi il Cagliari, ieri è andata bene, non ti va sempre bene, quindi ha voluto rischiare ma per fortuna l'abbiamo portata a casa. A livello tattico è difficile analizzare la partita proprio per la pochezza degli avversari, perché quando ti lasciano spazio, ti lasciano fare quello che vuoi, diventa difficile. Noi come avevo preventivato abbiamo giocato col 4-2-3-1, con Romero sotto punta, un Romero che si dà tanto da fare, ma che serve a poco, cioè vi ricordate che dicevamo così di Diaz, no? Si dava tanto da fare ma poi non concretizzava. Già Diaz, pensa che Romero è 5 livelli sotto Diaz, quindi ti lascio capire la partita di Romero. Che partita ha fatto Romero? Ha fatto un tiro alle stelle e poi ha toccato tante palle, tante palle più che altro perse, non saprei nemmeno giudicarlo. Non eravamo tanto sfilacciati, perlomeno non mi è sembrato, anche perché loro tolti i primi minuti dove poi hanno fatto quel calcio d'angolo, dove hanno fatto la parata mirante, poi loro sono stati inesistenti tutta la partita. Anche lo stesso Luvumbo, che io mi ricordo in campionato ci aveva fatto impazzire, vi ricordate a Cagliari, sembra che non piavamo mai, io non si è visto. Cioè proprio il Cagliari l'ha fatto rimanere dalla Coppa d'Africa, ma io non si è visto, dopo zero. Bene così, bene così, un super Teo, un super Teo Hernández, non vi permettete di venderlo, ho una paura. Già quando sento per legati che inizia a dire me lo gusto, me lo gusto, come se fosse tipo l'ultimo anno, no? Mi sta venendo una paura di Teo, c'è un contatto di quattro anni, quindi non vi inventate scuso, stronzate di vendere Teo, che è la volta buona che torno sotto Casa Milano, con altri cartelli Cardinale Out. Se vendono Teo torno, però speriamo di non dover tornare. Bene un po' tutti ragazzi, bene un po' tutti, vedo tutti che parlano di questi Menez, ma io ieri ve l'avevo detto. Cioè ieri, andate a vedere il mio video di ieri, quando vi dico che non ha senso la scelta di Pioli di fare Bartesaghi-Viceteo e poi non lo fai giocare, fai giocare i Menez, vi ho anche detto che il Menez è un giocatore forte, arriva da Real Madrid, infatti non è neanche nostro in realtà. Noi abbiamo il diritto di riscatto a 5 milioni e il Real ha il contro riscatto, quindi occhio perché non è neanche nostro. Spero lo riscattino, poi vediamo se, tra l'altro non si sa quant'è il contro riscatto. Potrebbe essere anche un contro riscatto basso, quindi io spero che lo prendiamo perché è un bel giovane. Mi piace la personalità, corsa, aggressività, eccita ovviamente deve ancora svilupparsi il ragazzino, sembra il figlio di Castiglieco ancora, anche fisicamente si deve formare. Però c'ha la personalità, c'ha la personalità di uno che dice giochiamo, giochiamo a calcio e quindi mi piace, si propone, ha fatto anche un bel tiro di sinistro, mi è piaciuto, mi piace tantissimo Simic, mi piace tantissimo Simic, questo ve lo dico da un po', di Giancarla. Lo vedo il giocatore pronto, lo vedo il giocatore già pronto, ieri ha fatto lui il centrale, soprattutto in impostazione che ci mettiamo a 3, quando impostiamo ci mettiamo a 3, con i manager che andava a fare il centrocampista, il piolismo assoluto, però lui era il centrale Simic di una coppia di 3. Dicono che è roccioso, che è un difensore vero, però anche con i piedi non è che disdegna, quindi è un giocatore che mi piace, secondo me è già pronto per entrare nelle rotazioni, quindi lo dovremo usare, ce ne accorgeremo subito questo mese e sono contento che giochi. Teo l'ho già detto, i manager l'ho detto, adesso ha giocato Calabria, ha fatto il suo, quando è entrato Florenzi ha fatto il suo, senza infamia, senza lode. Il centrocampo, sto già andando nei voti singoli, sì praticamente sto già andando nei voti singoli, va bene, allora diamo i voti. Mirante gli diamo 6,5 per quella parata lì, anche se nel secondo tempo ha regalato un rinvio proprio nei piedi dell'avversario, che non è riuscito ovviamente a concludere nulla, perché ribadisco. Sul gol pensavo fosse colpa sua, perché dallo stadio, visto che lui ha tirato la casa mia e ha fatto il gol, ha detto come era messo Mirante. In realtà poi rivedendolo in televisione è stata deviata la palla. Diciamo che Mignan secondo me non lo prende quel gol, però Mignan è Mignan e due Mirante, quindi gli diamo il suo 6,5 e va bene così. A Calabria più di 6,5 e lo stesso a Florenzi più di 6, non riesco a dargli perché non è che hanno dovuto fare chissà cosa. Teo gli metto 7,5 perché non solo ha fatto il difensore centrale, ma ha fatto fare lui tutti i gol, tutti i gol li ha fatti fare Teo, il primo è assist di Teo, il secondo è Teo che è un anticipo e se ne va in porta così. Ma tanto appena l'ha anticipato io mi sono alzato, quando Teo ha fatto l'anticipo, ancora era nella sua metà campo, io mi sono alzato e ho detto dai Teo vai vai, già lo sapevo che arrivava fino in porta, c'è un altro passo. Cioè sembra che lui corre e gli altri vanno a una velocità inferiore, c'è proprio un altro passo Teo, un altro passo completamente. Quindi 7,5 glielo voglio dare a Teo, un 7 a Simic perché come vi ho detto mi è piaciuto, giovane interessante, 6,5 i Menez, non esageriamo però, una buona partita, un buon esordio da rivedere e con una squadra magari di Serie A, con una squadra diciamo un po' più vogliosa di vincere la partita. A centrocampo molto bene Adli, 6,5 tendente al 7, dei bei filtranti, poi aggressivo sull'uomo, non ha lasciato spazi, mi è piaciuto. Renders gli diamo 6 in più, accademia, non ha fatto niente di particolare, accademia. Romero, non gli voglio dare l'insufficienza, ma più di 5,5 faccio fatica. Come fai a dare i più di 5,5 a Romero? Cosa ha fatto ieri Romero? Gli voglio bene al Polo Romero, spero che vada a giocare da qualche parte e faccia vedere il suo valore. Attualmente al mio anno, non serve, cioè fa numero. Tra l'altro a proposito di far numero, iscrivetevi al canale che oggi pomeriggio uscirà il video. Noi prendiamo Terracciano, l'Inter prende Zelischi, giusto per farvi capire. Però ne parliamo nel pomeriggio, giusto per far numero. Chi ha giocato poi? Cucuezze. Cucuezze gli devo dare 5 ragazzi. Cucuezze gli devo dare 5. Cioè noi l'abbiamo pagato 30 milioni sto qua. Ieri ha fatto la stessa partita che fa sempre. Insulse. Insulse. Non salta l'uomo, non tira, non fa assist. Fa lì, fa casino, fa casino, fa casino, ma poi non conclude niente. Cioè non siamo in Spagna, Cucu. Devi trovare la tua dimensione. Fai qualcosa e poi vai. Dribbling, passaggio. Dribbling, tiro. Non puoi star lì e lo dribbli e lo ridribli e poi torni indietro e poi... Oh, non sei in cortile. Sei in Serie A. Ci devo dare 5. Non parte per la Coppa d'Africa, poi vediamo. Jovic 7 e mezzo. Si è fatto trovare pronto. Ha sbagliato il primo. Poi Radunovic gli hanno regalato altri due, quindi bene. Anche lì tutti esaltano Jovic. Ha fatto bene, movimenti dell'attaccante, ma con un portiere normale non segna. Il secondo non era neanche in porta il tiro. Il secondo non penso fosse neanche in porta. L'ha messa dentro il portiere. Il primo, nell'area piccola, il portiere è rimasto dentro la porta. Però bene Jovic. Bene, anzi, secondo me potrebbe anche giocare qualche volta al posto di Giroud, farli girare un po' di più, anche perché Giroud non sta brillando, mentre Jovic è molto più in condizione. Comunque ha fatto quanti? 4-5 gol nelle ultime 6-7 partite. Di conseguenza è un giocatore in forma e va bene. Tanto per quello che fa il nostro attaccante, sia Giroud che Jovic, va bene qualunque dei due. A sinistra di là ha giocato Traore. Vi dico una cosa. ha fatto gol, quindi gli diamo un bel 6-5. Non mi ha impressionato. Cioè, mentre Imenez, Simic, sono giocatori che secondo me possono entrare già subito nelle turnazioni, se non me Traore ha bisogno ancora di un annetto di primavera. Non gli ho visto mai saltare l'uomo, accademico, prende balla alla scarica. Poi si è trovato lì per il gol, è stato bravo a difenderla e poi a metterla dentro, anche lì, col portiere trasparente. Cioè, se mettevi una sedia in porta era uguale, diventa poi più facile fare gol. Il gol era un tiro, era una mozzarella. Il portiere si è riuscito a farsi una fase da sotto. Ma come avete fatto a coprire quel portiere? E quindi bene, bene, comunque bene, senza infamia, senza lode. Dalla panchina sono entrati Florenzi 6, ve l'ho detto. Tanto anche lì, Pioli, hai messo dentro, va bene, facciamo Leao 6-5, tifo per lui, la gente lo vuole far riprendere. Ma io ribadisco, i miei attacchi a Leao, io l'ho sempre difeso, chi mi segue sul canale lo sa, io ho sempre difeso Leao, ho sempre detto, pochi giocatori forti abbiamo, quelli forti difendiamoli, no? Non è il mio attacco a Leao, non è un attacco sul campo, per quello che fa in campo, che già ciondola, va bene. Però non è un attacco su quello che fa in campo, il mio attacco a Leao è su quello che fa fuori dal campo. Io non accetto nella maniera più assoluta che un calciatore, invece di migliorarsi, vada a fare musica a casa di McKennie. È una roba che mi manda fuori di testa, perché quello si allena 3 ore, 3-4 ore. Mentre si allena, già sta pensando, dai, facciamo veloce che devo andare a casa di McKennie. Cioè, la sua mentalità non è una mentalità da calciatore professionista che vuole diventare un campione, non è una mentalità da campione. È una mentalità da uno che va a lavoro, finisce di lavoro per andare a fare la cosa che gli piace. Capisci? Cioè, il calcio, a differenza degli altri lavori, deve essere la tua passione, la tua ossessione se vuoi diventare un campione. Se no, è un lavoro. Se no, è un lavoro. Come tanti altri. E quindi non è la stessa cosa. Quindi ho questo che non accetto di Leao. Non ho il fatto che sia forte o meno forte. Mi diamo comunque 6,5. L'ingresso di Pulisic, che senso ha? Ma perché non hai messo zero lì? Subito, al posto di Pulisic. Che l'hai messo dopo? Togliendo renders dopo. Non c'era nessun altro da mettere lì. Io veramente l'ingresso di Pulisic non l'ho capito. Non l'ho capito. Non l'ho capito. Anche perché poi è uno che rischia, no? Vabbè, comunque. Che moto io vi dare a Pulisic. Era andato via, l'hanno trattenuto, se no se non andava in porta. Non ha fatto molto di più. Leao l'ho detto. E poi chi è entrato? E' entrato anche il Sparlafuse Bartesaghi. Dicevano che ha avuto la febbre, settimana, lì qua di là. Gli ero giocato. Quindi, vabbè. Si vede che ha avuto un po' di febbre. Tanto ha sentito febbre lui e l'off to cheek. Ancora. Quello ha già un virus al giorno l'off to cheek. Vabbè. Vabbè. Poi ci crede che non rende. Pioli gli diamo un 6,5 perché ha avuto ragione lui. Io non sono d'accordo, continuano ad essere d'accordo. Gli è andata bene. Ma non sono d'accordo con tutto il turno che ha fatto. Per fortuna la cosa è andata bene. Quindi, finché vinci le partite va bene. Però, oltre il risultato, bisognerebbe anche analizzare un po'. L'abbiamo vinta anche bene, a dire la verità. L'abbiamo vinta e l'abbiamo vinta bene. Quindi, ha avuto ragione lui. 6,5. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like. Ci sentiamo il pomeriggio, eh. Che qua c'è da fare festa. Comprano Terracciano. Quelli hanno già preso i suoi dischi. Noi prendiamo Terracciano. E voglio sapere quanto abbiamo speso. Se hanno speso più di 2 milioni, già faccio un video di prolegio che impazzisco. Quindi tenetevi caldi e così. Ciao belli!